ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e questo è un fan di glitch ragazzi un glitch divertente allora per fare questo dovete venire più o meno in questo punto io ho una mia attività in questo punto però ho notato che c'è anche un'altra attività al centro di questo slargo che però io non vedo non capisco per quale motivo comunque va bene e niente questo è un fan di glitch è una catapulta come avrete già visto nel titolo per fare questo glitch che cosa bisogna fare bisogna innanzitutto fare il glitch dell'immortalità diciamo che non è proprio un vero glitch perché dura pochissimo almeno a me perché comunque ho una connessione da 20 mega quindi dura veramente una cazzata però per fare questo cosa bisogna fare unirsi a una partita casuale e poi camminare sul punto dell'attività una volta fatto questo glitch è fatto sarete immortali fino a che non vi unirà all'attività poi salire su uno di questi diciamo pannelli non so come cazzo si chiamano comunque pannelli come vedete a me è già finito il tempo comunque andrò a rifarlo varie volte nel video giusto per farvi vedere e posizionare una qualunque arma non so un c4 quello che cazzo vuoi fare oppure sparare col bazzuva allora come avete visto io che cosa faccio avrò il telefonino mi unisco una qualunque attività non so voi cosa vi carica prima o che cosa vi carica dopo poi cammino sul punto di attivazione della gara e il gioco è fatto mi basterà andare comunque sul diciamo sul pannello azzurro e sparare come avete visto a me ecco non mi stacca da puntando molto alto comunque farò anche altri salti nel video quindi vedete come funziona è abbastanza divertente se avete una connessione lenta che comunque vi permette di fare questo giochino dell'immortalità che vi dura più di un minuto non so una cosa del genere potete farlo tranquillamente mi raccomando non usate questa storia dell'immortalità per andare un per cazzo come sempre perché io questo l'ho messo solo per fare questo glitch diciamo e nulla più insomma a parte che comunque non arriverete molto montano quindi ve lo dico è abbastanza semplice da fare abbastanza divertente perché comunque se prendete il botto giusto diciamo che vi catapulta molto in alto quindi è abbastanza divertente io l'ho fatto variate volte anche prima di riprendere il video è molto simpatica come cosa e niente questo è il panni glitch ragazzi se riuscite a farlo comunque divertitevi perché è abbastanza divertente niente di che sto cercando glitch dei soldi anche se la connessione 20 mega purtroppo non mi permette di fare alcune alcune cose perché alcuni glitch diciamo sono basati sul lag del gioco a me purtroppo non è che non mi lagga la grafica mi lagga però magari non mi lagga la connessione quindi è troppo veloce comunque cercherò un saluto da maxi e al prossimo video